In Romania erano ricercati da tempo anche con accuse pesantissime come la corruzione, il riciclaggio e la tratta di esseri umani. Adesso un uomo e tre donne sono stati arrestati dai carabinieri del Norm di Arezzo e delle compagnie di Arezzo e Cortona perché destinatari di mandati di arresto europei e provvedimenti emessi dalla Corte d'Appello Penale di Bucharest. Secondo gli inquirenti, infatti, i quattro avrebbero fatto arrivare ragazze rumene in Germania dove poi sarebbero state costrette, sia con minacce fisiche che psicologiche, a prostituirsi. I militari, adesso venuti a conoscenza della possibile presenza dell'uomo ad Arezzo, scelta per la sua latitanza, hanno organizzato una serie di servizi di osservazione ed appostamento che hanno consentito di localizzare un appartamento nel centro storico come possibile luogo di dimora del ricercato. All'alba di ieri sono poi scattati i servizi finalizzati alla cattura. All'interno dell'appartamento, oltre al 41enne, che deve scontare una pena di 9 anni e 5 mesi e che in un primo momento ha tentato di nascondersi dietro alla porta, erano presenti anche altre persone, tra le quali tre donne, una 32enne, una 39enne e un'altra donna di 61 anni, che dal successivo controllo alla banca dati sono risultate anche esse ricercate dalle autorità romene, poiché devono espiare pene rispettivamente di 4 anni e 11 mesi, 5 anni e 5 mesi e 5 anni di reclusione. Tutti gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati portati presso la casa circondariale di Firenze e Solliciano in attesa delle valutazioni della magistratura italiana e rumena.